Lupi multati perché al termine della gara con il Romagna Centro mancava l'acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro. Ennesimo fatto intollerabile, una vergogna per una piazza importante come Campobasso che, certe cose, non può farle passare. Intanto è caccia aperta al centro avanti, ultimo tassello da inserire nell'organigramma rosso-bluo. Si intensificano i contatti con Gianluca Trimarco, ex arma argentina. Qualcosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Una nuova notizia riguarda il transfert di Chimpala Chiaiesi sarà a disposizione dell'allenatore. In attesa di Chimpala, in attesa del centro avanti, dal piede caldo, club e tifosi si godono le prestazioni di Fabio Meduri, centrocampista che ha dato qualità e tecnica al reparto. Meduri parla della prestazione contro il Romagna Centro. Sì, siamo contenti perché abbiamo avuto una reazione che, parlando con il ragazzi, un po' magari settimana scorsa mi hanno raccontato che non c'è stata, invece questa partita qua c'è stata una bella reazione. Siamo riusciti, dai, a riagganciare, diciamo, a riprendere il risultato. Anche all'ultimo, gli ultimi secondi potevamo vincerla, diciamo, se con la punizione magari veniva sfruttata meglio. Però, dai, siamo contenti perché comunque abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo creato comunque qualche occasione in più, quindi, dai, positivo. Dell'espulsione che inevitabilmente ha pesato sull'andamento del match? Beh, sicuramente tanto perché il rei comunque ci dà una grossa mano a livello di movimento, di esperienza, quindi l'uomo in più comunque su un campo pesante come questo fa la differenza. Della scelta che lo ha spinto a scendere di categoria? So che, diciamo, dietro al Campobasso adesso c'è un progetto importante con il presidente Liberti, il mister, che comunque io l'avevo avuto ai tempi del Barletta e quindi anche il direttore stesso, Minadeo, è una persona serissima e quindi comunque so che vengo in una realtà, anche se tra i dilettanti, però una realtà importante perché comunque Campobasso ha una grande storia. Della sua condizione fisica? Ah, io sono contento perché comunque ho retto, diciamo, abbastanza bene fino all'ultimo, certo, un po' di lucidità è mancata gli ultimi minuti, però allenandomi tutte le state da solo, senza una preparazione vera e propria con la squadra, diciamo che posso dare di più, dai. E infine, del suo ruolo in campo, regista o interno, non fa differenza anche se in cabina di regia si trova molto a suo agio. Sì, 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 io preferisco giocare in mezzo al campo, però anche come mezzala non avere problemi ad adattarmi. Grazie. Grazie.